La speranza offerta dal Vangelo è l'antidoto contro lo spirito di disperazione che sembra crescere come un cancro in mezzo alla società, che è esteriormente ricca ma tuttavia spesso sperimenta interiore amarezza e vuoto. Al suo secondo giorno nella Repubblica di Corea, nella solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria, Papa Francesco celebra la messa nel World Cup Stadium di Daejeon e auspica che ai giovani non venga rubata la speranza nel domani. Troppo spesso oggi, ha precisato il Pontefice nell'Omelia, il fascino del materialismo soffoca gli autentici valori spirituali e culturali, mentre uno spirito di sfrenata competizione genera egoismo e conflitti, senza considerare i modelli economici disumani che creano nuove forme di povertà e demarginano i lavoratori e la cultura della morte che svaluta l'immagine di Dio. Davanti a migliaia di persone Papa Francesco ha chiesto infine di seguire l'esempio di Maria e di scoprire che la vera libertà si trova nell'accoglienza amorosa della volontà del padre.